Musica Benvenuti e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo su Chaos Video per Chaos Day Per portarvi il video davvero speciale Come avevo detto dal titolo Livello 400 Infatti adesso sono a livello 399 Mancano tipo 8000 punti Per arrivare al livello 400 Spero che in questa partita ci arriverò Anzi cioè almeno per davvero ci spero E niente ragazzi ci vediamo in partita E niente ci vediamo in partita Musica Quindi ragazzi la partita sta per cominciare Siamo sulla mappa Nick Town E tocca fare solo questi 8000 punti Quindi speriamo bene che ce la farò Anzi penso di si però Non dico queste cose perché non si sa mai Che poi manchera tipo un punto Per arrivare al 400 Quindi speriamo che arriveremo In questa partita a livello 400 E vabbè dai Bello Bravo C'è lo specialista nuovo E usi un golgon Ma sei forte Ma sei forte tranquillo Cazzo Ma fai uno fa sti 8000 punti Quelli si Cazzo Oh Perché me sei ampica male Ma che sta succedendo Una partita proprio stiana Ok Ok Perfetto Ma perché me fai a me C'è stato un tempo A compagni davanti Io sto fai a me Io non fai a questo Comunque Dai Regà Non ce so capire niente Tutti insieme Siamo andati Che palle Come Elston Dai L'odio Elston Ok Vabbè Se non trate le kill È un po' difficile Fai questi punti Però Noi ci proviamo Ok Quello non è morto Non si sa come Però va bene Vabbè Regà Io finisco sempre Munizioni davanti Che ha otto nemici C'è Una cosa incredibile Oh Ma dai Ma questo sta lagà Come le bestie Perfetto Ok dai 10-8 Quindi Quanti punti mancano Mancano 5.000 punti Ma che cazzo Ma sto spawnando Avicino a uno Sei serio? Sei serio Il gioco? Oh Questo sta sotto No No Vabbè Sta solo via Ma dove stavo? Ok Perfetto Assist Io sto cercando Di fare due punti possibili Anche se è difficile Vabbè Però ci sta sempre questo qua Almeno voi Nelson Che Bro Non ce la faccio A buttarlo giù Mentre butto giù Mentre Oh Qua non è morto Dai però Regà Queste battite Un po' le odio Comunque Ce la faremo Penso Perché già Ci mancano Pochi punti Dai vai Questo fu Pottilissimo Livello 400 Oh Madonna Perfetto Dai regà Non ce la faccio A fare una doppia Mamma mia Regà Porca Puttano Pant'olio Questi qui Che si Campiano Comunque Stanno andando Abbastanza bene Quindi Vi parlo un po' Di infine Queste Cosa ne penso Io Sinceramente Ho visto La campagna Che mi è Preciuto Tanto Il trailer Però Cioè Penso Almeno Che Sia Un bel Gioco Perché Hanno avuto Una grandissima Riescita Chaos Duty Dopo Di Black Ops Day Che È morto Un periodo Quindi Penso Che Alla fine Avrà pure Successo Questo Call of Duty Siccome Ci stanno Sempre Competitive Penso La gente Oramai Trova un po' Tutti Call of Duty Dopo Black Ops Day Ci Trova Niente Cioè Ci Trova Trova A vedere Com'è Comunque Sto Mojendo Troppe Forte Di Fila E Mi sto Un po' Buoncazzare Cioè Mi hanno Detto Il cazzo Questi Ma Mi Sciottano Mi Diano Due Cazzo Di Conti Come Faccio Come Faccio Comunque 23 18 Manco Tanto Male Ed è Finito Più Mojound Quasi Al livello 400 Quindi Stiamo Raggiungendo Un altro Obiettivo Sono davvero Contento E Comunque Ragazzi Fatemi sapere Invece Voi Qui sotto I commenti Cosa Mi pensete Del prossimo Cod Anche se non avete visto Il gameplay Di molti giocatori Ma cosa Mi pensate Così Cosa Aspettete Dal nuovo Cod Alla fine Ecco Livello 400 Perfetto Raga Dopo guardiamo I nuovi Emblemini Ci spizzeremo Un pochetto Emblemini Dopo E vi farò vedere Per chi non c'è I vado Per chi non l'ha mai visto Come sono Alla fine Questo mi ha attaccato Addosso Ma siamo 6 Dai Raga Però non c'è Sto capi niente Che ho pure La squadra Down Parca puttana Mi fa una cosa giusta No no Raga Ma In me Mi scioltano Mi scioltano Non mi so stancare Vada Hanno chiamato Quei layups Poi uno Si incazza Cioè Devi fa un video Del livello 400 Cerca di fare Un bel Un bel video Sperando che esce Una bella partita Invece Chiamano layups Perfetto C'è 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 Tipo 800 Yaps Deviato E quello Mi ha scioltato Fiaio popo Ma siamo 6 Siamo 6 Che mi ha scioltano Dai Che mi ha scioltato E basta So Fa pure 3025 Sì Sì Fa un culo Guarda che nabbi Guarda che nabbi Guarda che nabbi Io mi sono stancato So proprio tutti nabbi Sì Chiama pure Tua sorella La prossima volta Fanculo Hanno chiamato Quella C'è Abbas Faffanculo Comunque C'è Sono tipo Due video Che faccio In due giorni E infatti Sto decidendo Di fare un video Ogni giorno Di Call of Duty E Spero che voi Lo apprezzerete Per me Fa molto piacere Guardate Guardate Schifo E vabbè E c'è Bruce che spara A me Ce l'aveva uno Davanti Non lo spara C'è Ressetto Mamma mia Non ci sto accadendo Niente Vabbè 3829 Per adesso Fatto che Morti Guarda Perché Mi spagli A me Ficero Proprio Di merda C'è Stanno Te mila Cazzo Di compagni Perché Dichi Spagli A me Di compagni Il cazzo Oddio Stavo Morendo Vai 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 Fa un buon Risultato C'è Almeno Vince Questa Fottuta Partita Però C'ho I compagni Stupidi Non fanno Nulla Cattura B È Un hobby Per Lui Ma Perché Ma Io lo Sento Ma Poco Non lo Vedo What The Fuck Da Guarda 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 Tutti con il Gordon Non è colpa mia Che faccio Questi risultati Ma Parca Puffana Stato a vedere Che gente Che voglio Stato a vedere Stato a vedere Tutti quanti Ci vediamo Ci vediamo Quindi Ragazzi Eccoci qui Ecco L'emblemini Nuovi Che Andiamo a vedere Con calma Quindi Infatti Apriamo una Cassa Poco al volo Proprio così Scialla Al volo Tanto Non toro Mai Un cazzo C'è Non toro Pi niente Se le cassa Dieci danno Il tirapunni Qualche giorno Fa E tra Poi E Esce Il gameplay Quindi Andiamo a vedere Quindi Andiamo su Caserna E Andiamo a vedere Dove Ecco Qui Modalità Prestigio E Eccoli qua I nuovi Emblemini Questo qui E Di Black Ops Questo Black Ops 2 E Questo World That War Per adesso Lascio Questo qua Di Black Ops Che Quello Più Bello Quindi Ragazzi Finalmente Abbiamo Giunto Il Questo video Rapportato Tutto Bella